Prima di... visto che abbiamo ancora qualche minuto, non troppo, però io volevo chiudere facendo i complimenti al mio amico e collega Gianluca Atlante che la scorsa settimana ha ricevuto il premio di miglior giornalista dell'anno da parte della Federazione Italiana di Canottaggio ma credo che Gianluca meriti un premio comunque a prescindere dalla federazione alla quale comunque Gianluca è molto vicino non solo di canottaggio scrive Gianluca però in questo caso la federazione ti ha tributato questo riconoscimento Gianluca sicuramente una serata importante per la tua vita professionale Guarda è stata, credimi, è stata l'emozione più grande dal punto di vista professionale che ho mai vissuto perché era una sala piena zeppa di gente che ha fatto la storia del canottaggio italiano e l'ha fatta tuttora c'erano atleti, dirigenti, anche perché c'era in corso in quei due giorni sabato e domenica l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente, poi è stato fortunatamente rieletto Peppa Bagnale dico fortunatamente perché è un uomo che ha fatto la storia dello sport italiano e del reino italiano e nel suo quadrienne ha portato quattro barche in finale all'Olimpiadi con due medaglie quindi i numeri poi alla fine fanno una differenza e quando sono venuto a ritirare questo premio al momento in cui mi hanno chiamato per ritirare il premio c'era gente che si è alzata in piedi mi stingeva la mano neanche fossi il papa lì c'erano anche dei colleghi illustri gente che ha veramente scritto di canottaggio per anni e anni e anni e per testate nazionali e per testate nazionali, quindi è un premio speciale, belle le parole del Presidente io questo premio lo dedico a due persone che rappresentano la parte più importante della mia vita e che tengo dentro il mio cuore e le terrò per sempre ma dedico il premio chiaramente alla mia redazione con in testa il direttore Alessandro Panicutti perché hanno supportato e sopportato la mia voglia di scrivere di canottaggio sempre e comunque il che non è sempre facile perché tante volte vorrei scrivere di canottaggio anche quando magari non ce ne sarebbe bisogno e poi una dedica particolare va con tutto il cuore alla persona che più di tutte mi ha fatto innamorare di uno sport che è passione, coraggio e forza e cuore e che è l'ex comandante del terzo nucleo di Fiamme Gialle Gaetano Bellantono che è una persona a me molto molto cara che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato però sarà contenta Valentina perché la moglie perché è stato ed è per me un grandissimo uomo io l'ho sempre sottolineato il mio gigante buono le mie dediche sono queste qui perché quando poi prendi questi riconoscimenti è giusto ed opportuno che tu ti ricordi delle persone che ti hanno accompagnato in un percorso e ti hanno dato la possibilità di essere riconosciuto da una federazione importante come quella del canottaggio grazie Pasquale grazie a te Gianluca e vi invito anche per chi non l'avesse ancora fatto a leggere ad esempio Doppio Giallo che ripercorre la vicenda omana e sportiva di Alessio Sartori e di Romano Battisti a Londra 2012 dove c'entrarono un argento che era sicuramente lontano dalle previsioni alla vigilia siete stati gentilissimi anche voi nell'ascoltarci questa sera era una serata un pochino in tono di messo come sappiamo insomma da questa sera ci sentiamo tutti quanti un pochino più tifosi dello Schaperquense insomma quindi andremo avanti anche ricordando questi giocatori grazie Gianluca Trante grazie a te Pasquale grazie Luca Pannozzo grazie e volevo salutare ovviamente i miei due leoncini che mi stanno a seguire a casa mi hanno detto papà mi raccomando salutaci e quindi do la buonanotte alla televisione e che sia fatto grazie a voi grazie a voi e poi volevo dire su questa squadra sfortunata brasiliana pare che l'altra squadra finalista gli voglia comunque lasciare il riconoscimento della Coppa mi sembra un gesto eccezionale per una squadra che entrerà nella leggenda del calcio mondiale perché oggettivamente ha fatto una cavalcata incredibile è arrivata alla porta diciamo dell'apoteosi e lì forse ha trovato il destino invece la porta del paradiso in tutti i sensi quindi vedere quell'entusiasmo di quei calciatori che si abbracciavano contenti per aver raggiunto una finale che poi a posteriore sappiamo essere il loro dramma mi sembra una cosa incredibile secondo me Gianluca ci potrebbe fare un pezzo un pezzo dramorico eh sì è una bella è una bella storia dispiace però l'immagine più toccante è farla rivedere e loro in aereo prima di partire incredibile per Medellin ma che poi abbiamo saputo un'altra cosa che loro hanno fatto uno scalo tecnico e avrebbero dovuto prendere un aereo privato non gliel'hanno consentito e hanno preso un'altra linea che è caduta le trame della questo che fa la diretta è Machado quello che è stato a Salerno ah giocava a Salerno eh sì tanti incroci tanti destini tra l'altro Caio Junior allenatore quello che ha fatto esordire in Serie A nel Paranà Jefferson Jefferson che aveva tra i compagni di squadra anche Neto altrimenti Elio Zampier uno dei giocatori che sono venuti a mancare queste immagini io le manderei a Lupe questa sera ad oltranza invece le stazioni del palinsesto della nostra televisione purtroppo ci dicono che dobbiamo chiudere qui ma non smetteremo mai di ricordare questi ragazzi forza Siapequense buonanotte a tutti ringrazio in regia i nostri ragazzi Luigi Papa ed Antonio Maiolo Pianetone Razzurro sempre ogni martedì Lazio TV Pianetone Razzurro Pianetone Razzurro Pianetone Razzurro Pianetone Razzurro